È arrivata la trottella, è arrivata la trottella, eccola, discreta, una crozzolina discreta, mettiamolo qua, eccola qua, va bello a farlo, la muoviamo subito, la staccata appena appena, dobbiamo fargli fare il saltino qua, perché sto pescando dall'alto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. È arrivata un'altra trottellina, piccolina, piccola piccola. Rilasciamo anche questa, che è piccola. Allora la commissione va. Allora la commissione va. Allora la commissione va. Amici, eccola qua la bella trottella, la bella trottella. Fai la brava, fai la brava, fai la brava, fai la brava. Fai la brava. Allora la commissione va. 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 GLUTTO. Allora la commissione va. Abbiamo preso una bella trotella. Adesso recuperare cazzo. E' quello il problema. Piana tutta in piega. E' una bella trotellina. E' una bella trotellina. E' andata. Aspetta il serio ragazzi. Il paradiso. Il paradiso. Il paradiso. Il paradiso. Grazie a tutti